Alla ricerca di un libro, ispirata magari da qualche conferenza che hai ascoltato? Sì, in parte sì. Comunque stavo cercando qualcosa anche da portare a delle amiche che amano le mie stesse cose. È la prima volta che vieni al Festival della Mente? Scorso, l'ho scoperto. Perché è tornata? Perché mi è piaciuto, perché mi intriga e quindi trovo degli stimoli interessanti. Che cosa seguirai in modo particolare in questi giorni o ha già seguito? Io ho seguito ieri, quindi sono venuta ieri e quindi torno domani sera. Ho seguito il concerto Tandem, ho seguito Nucci con Valentina Carrelutti e stasera ci torno. Poi stasera vado a vedere Giulia Lazzarini. Sì, poi domani vedrò l'ultimo, quindi vita agli arresti. Sì, ci sono molte cose interessanti. Tema è la rete, lo ha trovato interessante? Sì, in parte. Io non è che sono proprio interessatissimo al discorso della rete, anche perché cerco di rifuggire dalla rete in generale. La uso soltanto come strumento di ricerca. Alla ricerca di un libro, magari ispirato da qualche conferenza che hai ascoltato? Sì. Che cosa in particolare? Questa qua di Floridi. Seguirà altre conferenze? Ma sì, qualcun'altra. È la prima volta che viene al Festival del Lamento o già lo conosci? No, la terza o la quarta, sì, sì. Che cosa ha di speciale questo festival? Ma è diverso dagli altri, comunque ci sono delle conferenze interessanti, argomenti filosofici, così che magari mi interessano. Aboliremo sia la democrazia che la libertà di opinione, nel vostro interesse, cari signori. E non c'è Festival della Mente senza Festival della Mentina. Grazie.